Il WWF è un'organizzazione mondiale il cui scopo è proteggere e salvaguardare la natura in tutto il mondo. Io direi che il WWF nelle scuole fa molti progetti. Io per esempio all'elementare e ho fatto molti progetti. Oh sono favolosi, grazie papà! Noi ogni giorno avevamo dei sacchi e dentro questi sacchi c'era il sacco per la plastica e ci mettevamo tutte le cose, i nostri rifiuti della plastica e i sacchi della carta dove ci mettevamo, non lo so, magari i fogli, tutto quello che andava da buttare di carta e fatto di carta. Tu che cosa stai facendo? Oggi non vai a pescare! E poi ogni giorno, ogni giorno, in settimana, a turno facevamo e dovevamo buttare tutti i contenitori. In black �! E quindi mamma! Ah!